Al quinto posto della classifica delle celebrities più ricche d'America troviamo David Copperfield il famosissimo mago anche noto per essere stato fidanzato con la bellissima modella Claudia Schiffer Pensate che secondo la rivista Forbes il suo patrimonio ammonta ad 850 milioni di dollari e se pensavate che fosse troppo vecchio per far soldi dovete assolutamente ricredervi perché il 2016 è l'anno in cui ha fatto in assoluto più soldi di tutta la sua carriera infatti il suo show ospitato all'MGM Grand di Las Vegas è davvero tra i più apprezzati tra l'altro una piccola curiosità esattamente un anno fa ho partecipato a questo show e ve lo consiglio assolutamente volete sapere come ha investito i suoi soldi David Copperfield? ha comprato 11 atolli alle Bahamas e li affitta a 50 mila dollari a notte nel link che trovate nella descrizione del video c'è il sito internet proprio dei suoi resort al quarto posto troviamo Michael Jordan la star mondiale del basket pensate che il suo nome continua a essere un grande affare per Nike che addirittura prevede un incremento del 60% delle vendite collegate a questo specifico brand entro il 2020 con un patrimonio di 1.2 miliardi di dollari il vero affare Michael Jordan però l'ha fatto comprando una squadra di basket infatti Charlotte Ormond è stato comprato nel 2006 per 175 milioni di dollari da Michael Jordan oggi questa squadra è valutata oltre 400 milioni di dollari abbiamo fatto uno studio su Nike che trovate sul sito investire.biz infatti il titolo in questione ha veramente un ottimo track record da oltre 30 anni sia il prezzo che i dividendi sono in crescita davvero da tantissimo tempo se volete approfondire trovate l'articolo su investire.biz al terzo posto troviamo Oprah Winfrey la star americana dei talk show è nota nel mondo degli investimenti per aver investito nella società Weight Watchers una società quotata sulla borsa americana che si occupa di diete pensate che durante uno dei suoi talk show appunto ha comunicato di aver comprato il 10% di questa azienda e il risultato è stato un boom in borsa di questo titolo che ha praticamente raddoppiato il prezzo in due giorni facendole guadagnare davvero tantissimi soldi anche in questo caso abbiamo fatto un approfondimento di questo titolo su investire.biz e vi invito a visitare il sito per vedere lo studio completo fatto appunto su questa azione al secondo posto troviamo Steven Spielberg lo conoscete tutti per aver girato il film Jurassic Park con un patrimonio di 3.7 miliardi di dollari la sua fortuna chiaramente arriva dalla creazione dei film attraverso la compagnia DreamWorks Pictures che è anch'essa quotata sul mercato azionario americano a fine 2015 Spielberg ha siglato un accordo con Jack Ma, il patron di Alibaba che vedrà appunto la collaborazione delle due società al primo posto troviamo George Lucas, l'inventore di Star Wars il suo patrimonio è schizzato a 4.5 miliardi di dollari dopo che nel 2012 ha venduto la Lucasfilm, la sua compagnia per 4.1 miliardi di dollari alla Disney Lucas si è ritirato dalla sua attività non ha particolari investimenti se non quello nello Skywalker Ranch in California dove si è ritirato e si gode la sua vecchiaia io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata di sempre sul pezzo grazie a tutti